Bene, le sottodominanti giocano un ruolo importante nella formazione delle melodie e qui ve ne do un esempio. Ecco. Ora, non ci fossero le sottodominanti, noi avremmo potuto eseguire questo passaggio banale. Anche così. Ecco, la differenza è sottile ma evidente. Il feedback è importante, il feedback è importante e credo che abbia un valore, un valore inespugnabile. Eseguiamo qui la scomposizione del tempo. Io ho seguito il tempo in pari. Ora, abbiamo contato in quattro. Noi ora andiamo in cinque, alternandoci con il nove, ogni due. La mano è importante per ogni musicista. Un musicista senza mani non suona un basso, per esempio. Questo ci porta a considerare di più la funzione della mano nell'uso dello strumento. Io e Kubrick ci siamo incontrati tanti tanti anni fa perché io ricordo benissimo era il periodo della scherimitazione, del primo baffiato, di tutta quella psichedelia post-sigvitus che ha creato anche una sorta di polpettone di base su cui, diciamo, questo humus ha dato modo a diverse realtà di svilupparsi. Ecco, tutto questo ci porta a vedere con una nuova ottica la musica. La musica in particolare è il basso. Io ricordo benissimo quando incontrai Kubrick nel 92. 92. Lo incontrai a Genova. Lui era per una mostra. Io, combinazione, lavoravo come facchino in quell'albergo e, sbagliando strada, finì nella parte privata e gli diedi una gomitata praticamente. Lui mi insultò, penso, in inglese, non capì una cosa tipo «Pack, your mother, suck!» era una cosa generessa. Non sapendo l'inglese, io gli dici «Thank you» perché ricordavo questo. E da questo incontro con Kubrick la musica in me è diventata parte di me. Un classico della mia scuola è la tecnica del double picking. In cosa consiste questa tecnica? Single picking E usiamo il colpo doppio mantenendo il senso della pennata. Ora sudividiamo con il double picking. Questo porterà tutti voi a poter suonare tutto quello che suonavate normalmente in sedicesimi in trentaduesimi e quello che suonavate in trentaduesimi in sessantatattresimi. Il glissato di colso molto semplice può essere… Noi applichiamo questa tecnica alfa-diesis che, come anche voi saprete, è una delle note chiave nello sviluppo delle sottodominanti. Sentite. Certo. Questa, comunque, è una letteratura di una guania classica. E possiamo vedere su questo questa cosa. Il tapping di polso io solitamente sul palco mi nascondo quando lo faccio. Un po' come la sua banale? Esattamente, esattamente. Perché sono cose… È un po' come vendere il proprio figlio. È sviluppato su un sì che, come tutti sanno, è la nota base per l'esecuzione di un tapping di polso. e fare una parte femmina. E'mmeno. Certo? Certo? Certo. È un po' come stemmi. Certo? 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 Certo. Certo? Grazie a tutti Grazie a tutti